ciao a tutti da Gentuber si yaki è la reina Tommy e bava natale yaki allora allora intanto tanti auguri a tutti gli iscritti è il secondo natale del canale è il brattato mio nello mi fa impressione mi fa veramente paura sono una reina ok quindi come dove sono? il primo l'abbiamo passato l'abbiamo già fatto il primo questo è il secondo natale che il canale vede per fortuna è la prima volta che ci vedete con questi cappelli speriamo l'ultima io mi siete a mio agio nelle vesti di renna contento te? va bene allora abbiamo un po' di cose da dirvi che fino all'uno intanto buon anno perchè? fino all'uno non caricheremo video quindi non avremo occasione di augurarvi buon anno quindi vi auguriamo oltre che un buon natale anche se appena appena in tempo anche un tanto felice vacanze perchè più o meno abbiamo tutte la stessa età quindi siamo in vacanza in questo periodo si e dai e buon anno ci vediamo con l'anno nuovo carichi di video perchè babbo natale ci ha portato qualche giochino nuovo quindi si inizierà qualche serie nuova insomma si cercherà di dare con l'anno nuovo un po' una ventata d'aria fresca al canale esatto magari si faranno i video con la testa verenne no quello forse no che non sarebbe male va io provo diversità di punti di vista comunque niente ragazzi quindi buon anno buon natale buon tutto quello che volete divertitevi non fate i compiti durante le vacanze mi raccomando non fate i compiti e ci vediamo con l'anno nuovo ciao ragazzi cercate di comprare anche voi un cappellino un cerchietto come questo un cerchietto e perchè un cerchietto farlo vedere vedete lui va a scuola con questo mi fa in valutamento paura ragazzoli buon anno e buon natale buon anno e grazie di tutto ciao